Mi chiamo Ermanno Albani, lavoro per la Helmet. In Helmet mi occupo della direzione e dello sviluppo commerciale, non solo in termini meramente di clienti e di business, ma soprattutto rispetto ai servizi integrati da offrire vari ambiti di mercato con soluzioni innovative che hanno l'obiettivo di seguire e dove possibile anticipare le esigenze del mercato. Helmet si occupa di conduzione e manutenzione impiantistica, global service immobiliare, ottimizzazione ed efficienza energetica e anche di adeguamenti, riqualificazione, costruzione di impianti, di strutture e manutenzioni straordinarie. Siamo inoltre una ESCO certificata. E ora quali sono le necessità della sanità? La sanità, così come la ricerca medica, hanno da sempre posto una particolare attenzione alle tematiche di manutenzione. Non se non altro per l'estrema importanza che riveste rispetto della normativa unita all'imprescindibile necessità di garantire la continuità di servizio. Oggi certamente nel campo della manutenzione tecnica risulta davvero importante, soprattutto nel settore della sanità, avere una tracciabilità dei processi che consenta poi di utilizzare questi dati, unendoli magari anche a sensoristiche e a tecnologie digitali per poter tracciare un percorso che porti la manutenzione verso una tipologia manutentiva di tipo predittivo. Inoltre, oltre alla giusta e doverosa qualità manutentiva, è diventato un punto focale la corretta gestione e conduzione. Conduzione che consenta di ottenere anche un significativo efficientamento dal punto di vista del contenimento dei consumi energetici. Attività che, oltre ad avere ovviamente un beneficio in termini di risparmio energetico e conseguente risparmio economico, ha anche come ritorno il fatto che l'impianto, l'impiantistica e il sistema edificio funziona al meglio, quindi ne preserva la durata dell'asset negli anni e ne garantisce sicuramente un'ottimale e migliore continuità di servizio. Come abbiamo detto, Helmet si occupa delle attività di gestione e manutenzione degli immobili. Opera in questo settore in oltre 600 siti in tutta Italia, in diversi settori di mercato, quindi non solo nella sanità, ma anche nell'industria, nel settore retail, nel settore residenziale. Tutte queste expertise ci aiutano a poter portare, anche nel settore della sanità, tutta una serie di best practices che aiutano a poter migliorare di giorno in giorno quello che è la nostra capacità di operare. La priori esperienza nel settore della sanità ci ha portato ad apportare significative esperienze tecnologiche. Abbiamo molti clienti con cui abbiamo instaurato dei rapporti di manutenzione, dei contratti di manutenzione, con collegata una misurazione delle performance energetiche. Questi contratti consentono di potersi sedere col cliente e decidere insieme strategie, attività da porre in essere, anche investimenti finalizzati all'efficienza che possono così portare ad attuare nuove forme di conduzione che hanno l'obiettivo, come abbiamo detto, di migliorare il funzionamento degli impianti e l'efficienza energetica. Come azienda abbiamo aderito davvero con entusiasmo a questa opportunità, a questo evento HBM, proprio perché riteniamo davvero significativo poter portare l'esperienza che abbiamo accumulato in tutti questi anni, sia nel settore della sanità pubblica, sia nel settore della sanità privata, a questo tavolo, per fare in modo che il settore della sanità continui verso quell'innevazione che da sempre lo ha contraddistinto.